Scadrà il prossimo 5 di settembre la procedura per partecipare all'assegnazione temporanea per la gestione del mercato ittico di Giulianova. L'obiettivo è quello di definire il tutto entro il prossimo 21 settembre, data che segna la riapertura dell'attività ittica e dunque il ritorno alla contrattazione del pesce anche nel mercato ittico giuliese. Ospichiamo che la giudicatario sia il consorzio che si è costituito in città tra produttori grossisti locali e non della nostra provincia che vivono il mercato ittico da più di un decennio, anzi forse alcuni anche da 3 o 4 decenni, dalle origini, insomma dagli anni 70 e speriamo appunto che la gestione passi a chi lo vive e chi ne conosce bene le dinamiche. Il valore dell'appalto è stato stimato in circa 80 mila euro per l'affidamento della gestione temporanea del mercato e il comune ha attivato la piattaforma online di Asmel Consortile. Abbiamo accelerato i tempi perché il desiderio comune è che si riparta con la nuova gestione e la riapertura del mercato. Quattro mesi che potrebbero diventare anche cinque utili ad avviare le procedure del bando definitivo per l'esternalizzazione del servizio, ad oggi in capo alla Giulianova Patrimonio. La voce del mercato ittico per quanto incastonata nelle tante che gestisce la Giulianova Patrimonio era un po' un crucio sia della società partecipata ma della politica, dell'amministrazione stessa. Il fatto che sia nato questo consorzio, qualora se lo dovesse giudicare, è una cosa che ci dà speranza perché poi la progettualità intorno al mercato non è riferita soltanto agli argomenti collegati prettamente agli scambi commerciali ma degli sviluppi anche di carattere culturale e di tutela del prodotto del nostro mare. Non dobbiamo abbandonare l'aspetto della pesca, una tradizione importante in città, famiglie famosissime a Giulianova hanno fatto la storia del mercato ittico giuliese e della diffusione del nostro prodotto del territorio. Va tutelata, va incrementata guardando tutto in una chiave più moderna.